Antonio Di Pietro lo aveva annunciato nei giorni scorsi, questa volta aveva detto non mi candido nel Molise e così è stato. La lista Rivoluzione Civile, composta da sette associazioni, tra le quali l'Itale dei Valori e gli Arancioni di Luigi De Magistris, ha ufficializzato i candidati molisani al Parlamento. Sono Antonino Ingroia, capolista alla Camera, seguito dal segretario regionale dell'IDV Pier Poronagni e da Marilena Natilli, indicata dal Movimento Cambiare Si Può che alla Regione sostiene il candidato presidente Antonio De Lellis. Al Senato invece il capolista sarà Giuseppe Caterina, già coordinatore dei ripietristi e al numero 2 Iulia Iemma, avvocato di Venafro, anche lei iscritta all'Italia dei Valori. Dunque due dei tre candidati della lista Ingroia al Parlamento faranno ovviamente campagna elettorale per rivoluzione civile, mentre alle regionali si divideranno Nagni con Paolo Frattura e Marilena Natilli con Antonio De Lellis. Ma non è paradossale? No, non lo è. Anzi, per quel che riguarda i dalle valori è un viaggio di coerenza. Noi siamo stati quasi due anni nell'alleanza col Partito Democratico e con Paolo Frattura. A livello nazionale le cose sono cambiate, anche il gruppo di Cambiare Si Può e di nuova Costituzione stanno facendo un processo diverso, ma insieme stiamo costruendo qualcosa di concreto e di vero a livello nazionale. Credo sia un meccanismo che la gente capirà, sta già capendo, e i sondaggi che danno in crescita Ingroia la dicono lunga sull'intenzione dei voti nazionali. Intanto a disegno nel suo partito una mezza rivoluzione sta succedendo, quattro esponenti hanno abbandonato il partito. Beh, dispiace. Facciamo gli auguri ai nostri amici, tra parentesi persone serie, che hanno lavorato sempre con attenzione con Italia dei Valori. Vuol dire che questo percorso ovviamente si è interrotto perché loro hanno fatto una scelta diversa. Io mi auguro che la facciano sempre nell'ambito dell'area progressista, ma il partito andrà avanti come è sempre fatto. L'anno scorso di questi tempi è successa la stessa cosa a Termoli. Non mi sembra che abbiamo avuto un calo di consensi. Come andrà avanti il partito? Lo avete commissariato? Abbiamo nominato Peppino Caterina commissario, che lavorerà di concerto con il vice segretario provinciale Antonio Rago. Il gruppo rimane collegato a questo vertice, ma c'è una buona solidità su Risernia, alla base anche di un consigliere regionale uscente, che è Cosimino Tedeschi. Quindi siamo fiduciosi che, come sempre, i Sernia faremmo una gran bella figura. Grazie. Grazie.